Luca Aspettavo, più che altro speravo in una grande partenza, soprattutto in una bella vittoria è andata bene, perché nonostante che siamo andati sotto abbiamo reagito, abbiamo recuperato e addirittura abbiamo fatto tre punti importanti contro una squadra forte e quindi manteniamo questo entusiasmo perché ne avremo bisogno per arrivare il prima possibile a 40 Un grande campione come te che ha vestito maglie importantissime, che effetto ti ha fatto il pubblico di Verona? Oggi penso che è stato un pubblico fantastico, ci ha dato una grande mano e ripeto, se tutte le volte che giochiamo in casa ci sarà questo calore, penso che sarà dura per tutti poi c'è stata una grande prova di maturità, penso che tutti non vedevano l'ora che qualcuno commettesse qualche errore invece penso che sono stati esemplari e dal campo si sentono Tornerei adesso sabato da X a Roma? Sì, ma ormai ho giocato in parecchie squadre, quindi tornerò in tante squadre da X quindi comunque adesso godiamoci questa vittoria poi da martedì pensiamo a Roma perché sarà un'altra bella partita dove andremo a giocare e cercare di far punti E soprattutto adesso tu ti devi godere Bianca avevi promesso una dedica, insomma doppia dedica per lei Sì, ne ho fatto una per lei, una per Marta, così sono contenta tutte e due e adesso vado due giorni a Modena a godermi la mia famiglia Ciao, grazie 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 Grazie